Che palle, ma che cazzo facciamo oggi? Che cazzo non so, io mi vedo con una ragazza con una conoscenza su Facebook, inchia una bella gnocca, ma te non riesci con il tuo ragazzo? Ma quale ragazzo? Quello è un pezzo di merda, è un pezzo di merda. Sono passato l'altra sera sotto casa del suo ex e ho beccato la sua macchina, eh? Quello è un gran pezzo di merda. Ma sei sicuro che era la sua macchina? Certo che è la sua, quella cazzo di Hop è tutta scassata. Che cazzo di bastardo. Minchia, sei tranquillo, poi quante cazzo di volte dici cazzo, cazzo. Capito che ti piace? Però minchia, date in regolata queste parole, eh? Dai. Non ne hai mai provato? Per me, se lo provi, ti piace. Ma sei fuori, ma che cazzo dici? A me piace la donna, la donna, ok? Ma prova a pensarci, vedrai che se lo provi, ti piacerà. Oh, è rotto il cazzo! Mi fa pensare a queste cazzo di cose! E cazzo, e cazzo, e cazzo! A me piace la patata. Patata! 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 Patata!